Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornate in un nuovo video questa volta Christmas Edition Vi starete chiedendo Gloria Natale sta girando un video su Natale e indossi le orecchie da gatto cioè magari non ve lo starete chiedendo però io ve lo giuro ragazzi volevo indossare volevo indossare questo ma non si mantiene dritto cioè guardate è mollo cosa andiamo a fare in questo video di oggi? come vi avevo pronunciato su Instagram per chi non mi seguisse su Instagram seguitemi il mio nickname è sempre GlowJoint e lì pubblico tutte le mie più pazze idee e tutte le mie on the road tutte le idee che mi vengono in mente on the road facendo talmente tanti sondaggi che ogni giorno povere le mie color sono qui perché ho deciso di fare questo video in cui vi propongo 30 idee regalo low cost ma con una differenza rispetto agli altri video perché mi sono impegnata e ho diviso tutti i regali in base alle categorie quindi in questo video qui in qualche angolo non so ancora precisamente dove vedrete la categoria di appartenenza dei regali che cito vi dico anticipatamente le categorie che verranno citate in questo video così decidete se oppure no guardarlo o meno se vi interessa ci saranno regali ricordanti alla moda ovviamente il make up la tecnologia la fotografia la musica la cucina la casa e fitness comunque volevo approfittare per ringraziarvi tutte quante per gli auguri che mi avete fatto per il mio compleanno ne ho compiuti 22 e praticamente ho passato tutto il giorno in casa con il pigiama quindi è stato un bel compleanno perché mi sono riposata mi sono rilassata iniziamo subito iniziamo con il mio interesse principale che penso che sia quello della maggior parte delle mie iscritte perché seguono il mio canale che è appunto la moda quindi cari amici che guardate questo video prendete nota delle cose che cito perché magari sono i regali che io voglio davvero per Natale per la maggior parte mi sono concentrata su accessori in quanto ovviamente regalare dei vestiti se proprio non conoscete la taglia precisa è un pochino difficile il primo regalo che potreste fare è un paio di orecchini come questo qui di H&M che costa soltanto 9,90€ e sono molto belli perché sono degli orecchini con delle nappine quindi molto adatti al periodo natalizio sono disponibili in tanti colori tra cui il bianco e il rosso che sono i colori che vi consiglio magari di regalare proprio perché sono aderenti aderenti perché sono inerenti il periodo natalizio un altro regalo che potreste fare siccome l'inverno appunto sta alle porte sta nevicando nella maggior parte penso delle città italiane al nord principalmente potreste regalare secondo me un regalo anche molto ben apprezzato uno scaldacollo in pelliccia siccome ho visto che vi è piaciuto davvero tanto la maglietta nel mio ultimo video outfit lookbook che era quella maglietta tutta pelosa e rosa ho trovato quindi anche lo scaldacollo fatto così di Bershka che è appunto grosso ciccioso e pieno di pelliccia vari colori rosa bianco eccetera eccetera e costa 12 euro e 99 quindi è bello caldo un altro regalo che potreste fare siccome in questo periodo si stanno usando tanto anche d'inverno le scarpe aperte in velluto potreste regalare magari un paio di calzini appunto in velluto i colori che vi consiglio sono sempre ovviamente il verde abete quel verde bellissimo oppure il rosso natalizio quindi questi calzini qui sono di Bershka costano solamente 6 euro e 99 quindi potreste abbinarci anche qualcos'altro oltre ai calzini secondo me sono un'idea regalo veramente molto carina oppure potreste regalare una borsetta una borsa una pochetta adatta alle serate di capodanno alla serata natalizia insomma alle varie feste alle varie occasioni questa qui per esempio è di Stradivarius ed è anche in offerta costa 15 euro e 95 ed è carinissima perché ha tutti i gioielli sopra la tasca la tasca principale e infine per la categoria moda secondo me potreste anche regalare se magari avete qualche amica super pigra e accasata a cui non voglio uscire potreste regalare magari questa mascherina qui per dormire di Tezenis che secondo me è molto carina sia perché è rosa sia perché è pelosa e sia perché ha disegnato sopra il biscottino quello lì di Shrek di Zenzero insomma non lo so e costa solamente 5,90 euro passiamo alla categoria makeup per la categoria makeup non penso che sia tanto difficile fare dei regali in quanto in tutte le Sephora in tutte le Coin sono disponibili davvero tanti cofanetti Christmas Edition da regalare e da risparmiare ora vi dico quelli che ho trovato che secondo me sono molto interessanti da Sephora ho trovato questo kit trucco di Benefit come si sa Benefit è un marchio fantastico fa dei prodotti veramente molto belli quindi chi magari non ha l'occasione di comprarsi un solo prodotto ma ne vuole provare qualcuno di linee diverse questo kit è perfetto costa un pochino di più costa 34,90 euro però ci sono vari prodotti blush i prodotti diciamo must del brand per le amanti del makeup ovviamente è un regalo secondo me molto apprezzato sempre da Sephora ho trovato questo kit di Nars che costa 23 euro Nars è famosa per il suo blush appunto che è Orgasm il blush più famoso forse qui su Youtube c'è stato un periodo che davvero lo vedevo da tutte le parti e ha fatto appunto questo kit di rossetto abbinato al colore del blush poi ho trovato invece per la cura in generale del corpo ho trovato questo set di maschere qui c'è una maschera tra tanto è una scrub eccetera eccetera di Dottor Giart di Dottor Giart costa 24 euro e 90 le maschere di Dottor Giart ho sentito dire che sono veramente tanto famose quindi per chi magari è una patite della skin care sono un regalo molto bello da fare e infine potreste girare su tutti i siti di makeup per citarvene uno per parlarne di questo in questo video vi cito Nabla che è uscita per esempio con la collezione natalizia quindi potreste magari acquistare una tinta per labbra che ha un packaging veramente molto carino e regalarla regalare solamente quella oppure un set di tinte e così via quindi vi ripeto il makeup natale si sbizzarrisce ed escono con tutte le collezioni natalizie quindi potete benissimo trovarle quelle passiamo alla tecnologia per le patite di high tech come me per esempio perché io adoro tutto ciò che è tecnologia e sperimentare soprattutto tutti gli aggeggini nuovi da collegare a cellulare macchinette computer eccetera eccetera ho trovato queste cose allora potreste regalare per esempio questo per lo più è un accessorio per il cellulare è una cover pelosa l'ho vista su una ragazza ho detto oddio io voglio quella cover era tutta rosa sono disponibili in vari colori per Natale è bella perché tutto ciò che è peloso d'inverno è bello tranne i peli nostri che forse dovremmo togliere costa solamente 10 euro e del regalo è veramente molto dolce è carino prenderla magari del colore preferito dell'amica a cui lo regalate chi è patito dei musicali perché io c'è stato un periodo in cui facevo talmente tanti musicali poi l'ho tolto perché stava diventando tipo un'ossessione potreste regalare questo cosino che vedete qui che serve è praticamente per tenere il cellulare in mano lo infilate qui e quindi potete girare dove volete il cellulare e fare i musicali oppure potreste usarlo anche per farvi dei selfie si attacca dietro al cellulare ed è molto utile per le patite dei social oppure infine un regalo che potreste fare a chi usa costantemente il cellulare e ha bisogno di caricarlo ogni ora un power bank perché no un power bank può magari regalarlo di un colore un pochino più particolare però in questo caso è un regalo veramente molto utile e non è anche tanto costoso perché costano all'incirca sulla ventina di euro secondo me per le patite di high tech quale regalo migliore se non un calico a batteria da portare in giro e quindi avere sempre il cellulare qualsiasi cosa accesa ora passiamo all'ambito cucina con tutte le cene e i pranzi che ci aspettano i regali della cucina non possono mancare ovviamente per le patite del food del cibo innanzitutto ho trovato queste posate da insalata qui di H&M che sono veramente bellissime molto natalizie e festive costano soltanto 13 euro sono veramente bellissime può essere un'ottima idea di regalo magari per vostra madre o per la vostra nonna poi ho trovato questo set di presine e guanti da forno oddio sono bellissimi natalizi fantastici sempre da H&M Home e costano una decina di euro 10 euro quindi un regalo fattibilissimo poi ho trovato questo regalo molto carino per addobbare la cucina che è questo barattolo di latta porta caffè costa soltanto 6 euro questo l'ho trovato da coin e c'era sia del caffè che di altri magari polveri farine sono molto carini per fare magari un set un regalo anche molto utile per chi fa sforma continuamente dolci questo periodo può essere un set d'alzata quei set in vetro che gli appoggi sul tavolo dentro ci metti dolci le cose che fai e lo esponi sono questi qui insomma qui vedete la foto e capirete meglio della mia spiegazione per esempio da coin ne ho trovato questo qui che costa solamente 12 euro e 90 ma ce n'erano veramente tanti di tutte le forme di tutte le dimensioni insomma sono veramente molto belli un regalo molto carino da fare se magari convivete con il vostro ragazzo sono queste tazze qui che davvero sono veramente molto carine con vostro marchito con scritto mister e miss questi dettagli secondo me in casa sono molto belli davvero è davvero molto dolce da regalare passiamo alla sezione musica e fotografia che ho diviso appunto ho trovato due regali per la musica e due regali per la fotografia per le patite di musica ovviamente non possiamo regalarvi strumenti musicali quindi regaliamo qualcosa che rappresenti che simboleggi la musica per esempio un regalo molto carino da fare se vi piace questo genere di collanina è una collana che rappresenta un'onda sonora non è qualcosa di scontato diciamo perché è molto particolare alla fine come sapete la musica non è rappresentata dalle onde quindi un'onda sonora simboleggia appieno la musica oppure se avete un'amica una conoscente appassionata di musica di canto ma soprattutto di dolci in questo periodo di Natale perché non regalarle un bellissimo microfono di cioccolata così da unire le due cose questo costa solamente 12 euro e 58 passiamo alla fotografia per quanto riguarda la fotografia esistono molti siti online che vi permettono di stampare le vostre foto e di regalarle sotto forma di confezioni regalo vi cito in questo video quello che io ho portato a di mano che è la la lab che praticamente voi decidete il formato come stamparle e vi stampano le vostre foto vabbè queste sono le mie perché sono molto ecocentriche no sto scherzando era per fare una prova ovviamente per vedere se funzionasse e non costa nemmeno tanto questo tervizio secondo me è molto molto originale vedete qui ci sono tutte le foto più belle stampate però ovviamente per quanto riguarda la fotografia ho pensato anche alle patite dei selfie come me e perché non regalare un bellissimo ring light che sono queste luci che si mettono sul cellulare io ce l'ho ve lo giuro ragazzi e funziona funziona tantissimo la mettete sul cellulare la accendete e vi si accende come la ring light dei video che vedete su youtube la accendete e quindi vi potete fare i selfie anche se siete al buio non vi ferma più nessuno costano veramente poche le trovate comunque su amazon ebay eccetera 20 euro ed è un regalo molto utile oppure potreste regalare potreste regalare delle cuffie bluetooth le acquistate online perché io per trovarle non vi dico che pazzia ho fatto ho girato tutti i negozi quindi le cuffie bluetooth sono sempre una cosa molto apprezzata perché mentre si fa palestra mentre si corre non si vuole avere l'intralcio dei fili quindi delle cuffie bluetooth secondo me sono un regalo molto azzeccato io ho trovato queste qui che costano solamente 20 euro oppure potrete fare dei buoni se magari non volete stare lì a pensarci molto potrete fare un buono per esempio da Tezenis perché ho visto che ha davvero tanti completini da palestra che costano poco e sono veramente molto molto belli oppure un altro regalo molto utile che mi piacerebbe ricevere sono per esempio delle fasce elastiche utili per fare molti esercizi in palestra fasce elastiche non so come descriverle costano soltanto 10 euro queste ovviamente sono solamente delle mie idee passiamo finalmente perché mi sta facendo male la gola all'ultima categoria che è quella della casa perché non regalare queste box fatte di luci led con cui potete comporre delle scritte da mettere magari nella stanza sono veramente molto belle e instagrammabili oppure potreste regalare un set di candele profumate io ho trovato queste qui da H&M Home e costano 15 euro tutte le candele profumate sono bellissime come quelle della Yankee Candle magari accenderle nella stanza mentre si studia anche se non bisognerebbe studiare durante le vacanze di Natale però come atmosfera sono veramente molto belle oppure oddio lo voglio potreste regalare questo copricuscino in paillette sempre di H&M costa solamente 15 euro ma quanto cavolo è bello quanto è natalizzo quanto può essere bello tutto ciò che è implantato e per finire potreste magari per le più potreste regalare magari per le più pantofolaie queste pantofole qui di pelliccia in ogni categoria ho sempre aggiunto mi sa qualcosa che fosse di pelliccia queste pantofole qui di pelliccia che sono morbide belle calde costano 20 euro e sono molto carine ragazzi spero in qualche modo mamma mia qua oddio ragazzi spero in qualche modo di avervi ispirate se vi ho ispirate fatemi sapere che cosa regalerete che cosa avete scelto delle cose che vi ho fatto vedere come sempre ci vediamo nel prossimo video e preparatevi a una spizza di video natalizi di capodanno noi ci vediamo nel prossimo video vi mando un bacione grande grande ciao grazie a tutte ciao